Buonasera a tutti, ragazzi, oggi mi trovo campanile di San Rocco di Razzano, abbiamo molti campani, ora vediamo le suonate della messa sotto il punto, da giovedì a venerdì non c'era messa, giovedì nelle campane non suonano, giovedì, venerdì, martedì c'è, giovedì, faccio la menzana, la propria menzana, adesso vogliamo suonare, quindi a presto la ruota campanile 8, ma scopo a tutti, ciao! Buonasera a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, a tutti, grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti